Ciao, benvenuti in questo nuovo post ancora dedicato al concetto di creazione. In questo post voglio sottolineare una parola fondamentale che è alla base di ogni atto creativo, che è appunto la parola attenzione. Attenzione prefigura un concetto un po' particolare, nel senso che attenzione significa tendere verso qualcosa, solo che è un'azione già compiuta, quindi già protesa verso qualcosa. Raggiungere un grado di attenzione ottimale affinché si possa essere creativi è fondamentale. La parola che precede questo significato di attenzione è appunto la concentrazione. Prima di raggiungere un certo grado di attenzione è necessario mettersi in connessione con se stessi. Che cosa significa allora concentrazione? Concentrazione significa raccogliere tutte le parti di sé affinché si possa instaurare un feedback con quello che si percepisce realtà esterna. Perché avendo una forma esteriore noi percepiamo il mondo esterno appunto esterno. Ma nel momento in cui noi andiamo a raccogliere le nostre possibilità d'essere e a ricordarci tutte le nostre potenzialità, noi togliamo di colpo questa barriera che ci divide dal mondo esterno, che prensiamo ci divida dal mondo esterno. E quando cadono queste barriere si arriva ad un livello di concentrazione. Concentrazione significa appunto raccogliere queste informazioni che vengono da sé e che vengono anche dalla realtà virtuale e farle collassare all'interno di un centro, all'interno di un punto. In realtà non facciamo altro che operare con la concentrazione una semplificazione delle nostre attività percettive. Perché in quel momento tutto il fronzolame che ci viene dalla mentalità, dai condizionamenti eccetera, che sono programmazioni esterne, vengono demolite a vantaggio di un solo punto. Questo punto, questa concentrazione all'interno di un centro, fa sì che noi a questo punto riusciamo ad entrare in connessione con noi stessi. E quando si entra in connessione con se stessi, si entra in connessione in feedback con le parti di sé che sono proiettate verso l'esterno e che il mondo del divenire ci rappresenta come le nostre potenzialità ad essere, ossia le altre persone. In questo modo noi raggiungiamo un livello tale da poter estrinsecare tutte le nostre espressività appartenenti all'essere profondo. E solo in quel momento, nel momento del punto della presenza a se stessi, solo in quel momento noi possiamo essere creativi. Perché? Perché solo quando si collassano tutte le categorizzazioni, tutti gli schemi, tutte le strutture virtuali, solo in quel momento noi possiamo manipolare dal punto di vista creativo la realtà stessa, la realtà virtuale e quindi di per sé modificabile. L'operazione di creazione, di manipolazione che noi andiamo a fare nella sostanza della nostra esperienza virtuale fa sì che noi possiamo cogliere queste informazioni che perceviamo come staccate da noi e le possiamo reintegrare all'interno acquisendo una straordinaria consapevolezza. Ecco perché è importante il secondo passaggio dopo la concentrazione, cioè l'attenzione, cioè la capacità di mantenere questa, diciamo, questa predisposizione che si ha nei confronti dell'apertura conoscitiva. l'attenzione tiene alto il grado di concentrazione e maggiore l'attenzione, maggiore sarà la capacità di far fluire le informazioni derivate da questo punto verso la realtà virtuale. Nel momento in cui queste informazioni scorrono e queste sono praticamente informazioni intuitive, sono la voce dell'essere profondo, noi cominciamo a stabilire quella che è l'apertura mentale che aprirà appunto il canale empatico. Quindi l'attenzione è molto legata al concetto anche di apertura mentale. Non si può avere concentrazione che è appunto il primo passaggio se non si ha una predisposizione all'apertura mentale, cioè se non si è fatto un lavoro su di sé tale da cominciare a percepire l'altro come qualcosa che appartiene alla propria coscienza e come tale deve essere strutturato in modo tale da far fluire le informazioni dal virtuale al reale. Le informazioni che verranno dall'altro però non saranno soltanto informazioni virtuali ma saranno anche informazioni dell'essere profondo appartenente appunto all'altra persona e quindi nel momento della concentrazione e subito d'otto nel momento dell'attenzione noi riusciamo a cogliere quell'informazione creativa che ci fa evolvere. In realtà nel momento in cui noi abbiamo raggiunto questo punto che aprirà il canale empatico abbiamo già esercitato una sorta di manipolazione all'interno della propria coscienza perché in questo modo essa tenderà all'espansione perché tenderà all'integrazione di tutto ciò che si percepisce come staccato da sé ma sempre per volontà coscienziale perché ricordiamo sempre l'essere profondo utilizza la virtualità semplicemente per comprendere se stesso, per acquisire consapevolezza ed espandere la propria coscienza che a livello di potenzialità è ancora inesplorata. Nel momento in cui ci troviamo in questa condizione di attenzione, di concentrazione e ricordiamoci che anche la parola attendere che diventa attenzione significa attendere verso qualcosa e quel qualcosa è se stessi, quel punto è un punto che identifica il nostro centro, il nostro centro reale, cioè il centro attraverso il quale noi possiamo iniziare a procedere verso l'espansione coscienziale che non è altro che esprimibile in quella che è la nostra esperienza e la nostra esperienza non è altro che la creazione che deriva da questa espansione. L'importante è che si mantenga un grado di attenzione costante per non perdersi tutti gli eventi della vita che possono fornirci materiale conoscitivo. Ciao, al prossimo posto. Ciao ciao!